Ciao investitore, in questo video andiamo a parlare del BTP valore, più precisamente del BTP valore numero 2. Il numero 1 infatti è stato emesso a giugno e ne avevamo già parlato su questo canale. Questo video sarà solamente la prima parte in quanto alcuni dati, quelli sui tassi di interesse, non sono ancora stati decisi. Quindi prossimamente andremo a pubblicare anche la seconda parte del video. Mi raccomando quindi iscriviti al canale di Atena SCF per non perdere questi aggiornamenti. Direi di partire. Che cos'è il BTP valore? È un titolo di stato italiano con cedole trimestrali. Ho sottolineato trimestrali in quanto il precedente BTP valore aveva cedole semestrali, fissate ad una serie di tassi cedolari crescenti nel tempo, il cosiddetto step up, rivolto al mercato retail dei piccoli risparmiatori ed investitori. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi, che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione. Passiamo alle caratteristiche. Il periodo di collocamento sarà dal 2 al 6 ottobre del 2023, salvo chiusura anticipata. La quotazione avverrà nel mercato motte di borsa italiana. Il BTP valore avrà un rating di AAAB, quello dell'Italia. Il taglio minimo acquistabile è di 1000€, quindi alla portata di tutte le tasche. Il prezzo di emissione e di rimborsa a scadenza sarà alla pari, quindi a 100. Il regime fiscale è quello agevolato al 12,50% in quanto si tratta di un titolo di Stato e non è prevista nessuna imposta di successione. Inoltre non c'è nemmeno nessuna commissione in fase di emissione, quindi se si compra durante il periodo di collocamento e lo si porta fino a scadenza, le commissioni saranno pari a 0. Infine sarà acquistabile facilmente dal proprio home banking. Tra le altre caratteristiche troviamo la durata, pari a 5 anni, quindi il BTP valore scadrà nell'ottobre del 2028, presenta cedole trimestrali, il tasso minimo garantito verrà comunicato il 29 settembre del 2023, quando uscirà ovviamente la seconda parte di questo video. È presente un extra premio fedeltà se il BTP valore sarà comprato in fase di collocamento e tenuto fino a scadenza. Sarà inoltre possibile la vendita anticipata, in questo caso non otterremo il premium fedeltà e ovviamente andremo a pagarci le commissioni di transazioni per la vendita. Vediamo ora se fa al caso tuo o se non fa al caso tuo. Fa al caso tuo se hai un orizzonte temporale di medio termine pari a 5 anni, vuoi esporti al mercato obbligazionario italiano e vuoi ottenere delle entrate periodiche. Non fa al caso tuo se hai un orizzonte temporale di breve o di lungo termine, quindi non conforme al tuo obiettivo di investimento, sei già esposto al mercato obbligazionario italiano e quindi è meglio che non ti suvraesponi a questo mercato e se non vuoi ottenere delle entrate periodiche, perché preferisci l'accumulazione. Ora vediamo alcuni numeri che hanno contraddistinto il BTP valore numero 1. Le sottoscrizioni del BTP valore sono state record. Infatti sono state pari a 18,19 miliardi di euro, dove i maggiori afflussi sono avvenuti nelle prime tre giornate di contrattazione. Per quanto riguarda i numeri di contratti sono arrivati a 654.675, quindi veramente una cifra record. Ho calcolato anche il controvalore medio di sottoscrizione che è stato circa pari a 27.800 euro. Questo è tutto per quanto riguarda il BTP valore numero 2 che verrà emesso ad inizio ottobre. Mi raccomando iscriviti al canale di Atene SCF se non vuoi perderti la seconda parte del video con i dati aggiornati. Sicuramente per gli investitori italiani può essere un ottimo strumento finanziario. L'importante è che non ci si sovraespone al mercato italiano, come spesso accade. Per questo video è tutto, noi ci vediamo, alla prossima!